Questo che state vedendo è il nuovissimo Ledger Nano S Plus e questa è la sua scatola aperta. Tra poco la apriamo insieme. Questo è il nuovissimo hardware wallet della Ledger che combina il meglio del Nano S con il meglio del Nano X ad un prezzo che è una via di mezzo. Sta sugli 80 euro contro i 150 del Nano X. Le domande che ci faremo oggi è ma che differenza c'è tra questo e il Nano S e tra questo e il Nano X? Quale conviene comprare? Come si presenta? Quindi partiremo con l'unboxing, andremo a vedere come inizializzarlo, quindi un tutorial per utilizzarlo partendo da zero, passo dopo passo inquadrando proprio il device e lo schermo del PC con l'applicazione Ledger Live e alla fine vediamo come inviare e ricevere crypto sul nostro device e quali sono le differenze poi in termini di sicurezza di usare un hardware wallet come questo rispetto a non usarlo. Infine facciamo di nuovo una bella panoramica su tutte le caratteristiche tecniche di questo device contro i suoi fratelli minore e maggiore. Per chiederci appunto quale comprare, quale fa più per me, mi conviene spendere meno e utilizzare questo o mi conviene spendere di più e puntare al top di gamma Nano X? Seguitemi e lo scoprirete, ma prima vi chiedo, vi interessa? Vi piace? Cosa ne pensate? Vi ispira? Avete già un hardware wallet? Quale hardware wallet avete? Insomma qualsiasi cosa vi viene in mente sull'argomento, dubbi, domande, affermazioni? Scrivetele nei commenti che ne parliamo insieme. Ora andiamo a sviscerare tutte le caratteristiche di questa chiavetta, come la chiamano i boomer, seguitemi. Iniziamo con la parte che personalmente è quella che mi dà più soddisfazione, lo ammetto, ovvero l'unboxing. Allora, confezione molto minimale, come vedete, Nano S+, un po' di caratteristiche, ma riguardo a queste poi ne parliamo in maniera più esaustiva durante la recensione. Ora proviamo ad aprirlo, vediamo se riesco a non dilaniare la confezione. Allora, anche qui abbiamo un'altra confezione di carta con il logo in lucido, non è in rilievo, è soltanto lucido. Apriamola e vediamo che cosa troviamo nello scatolino. Allora, legger Nano S+, con questa forma a scheda telefonica, un po'. Marzo è un mese di nuovi inizi, siamo super gasati per farti vedere il nostro nuovissimo hardware wallet, il Nano S+. Abbiamo aggiornato l'iconico Nano S con uno schermo più grande, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, una presentazione. Noi, ripeto, tra poco guardiamo nel dettaglio tutte le features. Trust Yourself, cos'è un reminder? In realtà anche Trust Yourself ogni tanto anche no. E poi qui abbiamo il foglietto, il leggere ovviamente, e il foglietto dove scrivere il seed. In realtà io mi sento di consigliarvi calorosamente di non scrivere mai il seed su un foglio dove sopra c'è scritto contiene il seed, non lo so, forse un po' paranoia, forse no, ma diciamo che è meglio adottare misure preventive un attimino più caute nella gestione del seed. Ricordate che chiunque ottiene il vostro seed di 12 o 24 parole che sia, vi svuota il wallet anche se non ha fisicamente il ledger. Quindi, mi raccomando, è la cosa più preziosa che avete. Poi abbiamo la famigerata chiavetta, ah che meraviglia, Resilience by Design. Io adesso vi prendo anche, se lo trovo, eccolo, il Nano X, così vedete lo confrontiamo in termini di peso e dimensioni. Dimensioni pressoché identiche, direi che come dimensioni è identico all'S, se non ricordo male. E come vedete, spessore uguale, peso, vabbè, è leggermente minore del Nano X e la differenza principale, come vi ho detto, sta nel fatto che il Nano X ha la connettività di tipo Bluetooth e ha la batteria, mentre il Nano S Plus ha lo schermo del Nano X, come vedete, ha i pulsantini qua sopra, anziché qua, direttamente sulla superficie, e ha una connettività esclusivamente via cavo. Quindi, se vogliamo tenerlo acceso, dobbiamo avere il cavo inserito e il device collegato. Non è presente una batteria. Questo perché, di fatto, è una versione, possiamo dire, un po' più economica, ma altrettanto completa, del ledger Nano X. Poi confronteremo bene anche i prezzi per capire quale può valer la pena di acquistare. Io, personalmente, non credo di aver mai usato la funzionalità Bluetooth. Alla fine lo utilizzo sempre tramite ledger live, tramite PC, per l'appunto. Quindi, se il vostro utilizzo è questo, vi anticipo già che è una scelta assolutamente sensata di andare sul nuovo Nano S Plus, perché la batteria e la connettività non ci serve. Poi, ripeto, dipende caso per caso. Qui abbiamo ledger.com slash start, che è il sito che dovremo visitare per iniziare, ovviamente, a configurare, a inizializzare il nostro nuovissimo device. Qui sotto vediamo che altro abbiamo, presumo, le istruzioni, che, come di dovere, non si leggono mai. Nessuno legge mai le istruzioni, anche perché scommetto che state guardando questo video perché non avete voglia di leggere le istruzioni, ma vediamo cos'altro abbiamo qua. Get started, eccetera. Un po' di adesivi. Sì, insomma, un po' di istruzioni. Mi mettiamo da parte e, infine, qua sotto abbiamo un'altra confezione di carta che si apre da qua e contiene il cavo. Ok, questo per fare a mo' di portachiavi. E il cavo di alimentazione barra connettività. Come vedete è un USB. Questo mi pare sia un USB-C. e si inserisce qua. Vedete? Tac. Mentre questo cosino qui per flexare il ledger come portachiavi, dove lo si infilerà? Probabilmente qua. Oh, c'è il buco. Perché nell'altro, vedete, nel Nano X c'era un foro qui apposito. Mentre qua non lo vedo. Vedete? Iniziano già i dubbi, le domande. Ma dove infilo questo coso? Nel dubbio facciamo proprio alla ignorante maniera, così. Tac. Molto brutto, eh, però. Sono sicuro che c'è una soluzione migliore. Ma non la cercherò in questo momento. Bene, adesso direi che possiamo andare allo step successivo. Quindi lasciamo da parte tutto il resto. Tac. Confezioni, scatoline, scatolone. E ci serve soltanto questo. Device e cavo. E inizializziamolo. Allora, attacchiamo subito il nostro device tramite il suo cavetto. Tac. E si accende, vedete, automaticamente. È molto luminoso il display, eh. Veramente tanto luminoso. Ci spiega la navigazione, come funziona. Penso che riusciate a leggere. Con i pulsanti si naviga a destra e a sinistra. Naviga, non naviga. E premendoli entrambi contemporaneamente si seleziona una voce. Quindi andiamo avanti. Download Ledger Live. Io ce l'ho già, quindi queste per ora le salto. Poi vi faccio vedere in breve come ci si interfaccia. Usa i pulsanti per navigare. Premi entrambi i pulsanti per selezionare. Tieni premuti entrambi i pulsanti in qualsiasi momento per accedere alle impostazioni. Start Ledger Live per, ok, per avere un aiuto durante l'inizializzazione. In realtà adesso si può fare anche tutto da qui perché, vedete, potete o creare un nuovo seed, quindi inizializzare di fatto un nuovo wallet, oppure se avete già il vostro seed, perché avete Exodus, perché avete Trust Wallet, oppure avete, non lo so, un altro device con cui vi trovate male e volete passare al nuovo S+, allora potete prendere quel seed e inserirlo direttamente qua. Reminder, premi entrambi i pulsanti, ok, quindi noi facciamo Setup as new device. Supponiamo che vogliamo, è il nostro primo hardware wallet, oggi non ce la faccio, e vogliamo inizializzarlo, ex novo, tac, scegli un PIN. La prima cosa che ti fa fare è scegliere un PIN, va bene, 4970. E vedete che qui potete scegliere di farlo più lungo, oppure no, nel senso da quattro cifre in su. Se voi adesso selezionate la spunta lo fate di quattro cifre, altrimenti lo fate più lungo. Dunque il problema è che non me lo ricordo, quindi aspettate che ne mettiamo uno che ci ricordiamo. Adesso poi magari questa parte la taglio anche, è tipo 0000, proprio sicurezza ai massimi livelli. Opla, conferma PIN 0000. E ovviamente se mi chiederà una password inizierò, sceglierò proprio password. Ora vedete che ci dà il nostro seed, vedete, ci genera 24 parole che sono il nostro seed. Anche queste ve le mostro, ma state tranquilli che questo non sarà il mio wallet, quindi non provateci neanche a bucarlo perché perdete tempo. Queste 24 parole sono generate in maniera randomica e vi ricorda di scrivervele, dannazione. Scrivetele assolutamente da qualche parte. Ve l'ho detto, ci sono modi più comodi, più utili, più furbi per conservare le 24 parole, come delle tavolette in titanio che le vendono proprio, no? E sono più resistenti della carta. La carta basta poco per distruggerla, motivo per cui io davvero non me la sento di consigliare di conservare un seed su un foglio di carta dove sopra c'è scritto seed. Perché è veramente facile che venga alterato, distrutto o peggio ancora sottratto. Andiamo avanti e vedete che ci dà tutte le 24 parole, ta 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 e via. Una volta che ce le dà, ce le fa verificare. Io adesso non le ho trascritte, quindi questa parte la salto. Una volta verificate, il nostro wallet è configurato. Noi di fatto abbiamo creato il wallet. E ciò che bisogna fare come passo successivo è integrare il nostro wallet con l'applicazione Ledger Live. Una volta che abbiamo inizializzato le parole, allora appunto lo possiamo configurare con Ledger Live. Facciamo quindi un salto quantico in avanti. Supponiamo che ho già scritto e riscritto tutte e 24 le parole. E andiamo a giochicchiare con Ledger Live e questo nuovo device. Vediamo come si integrano. Allora, eccoci qua. Come vedete, innanzitutto se io stacco il cavetto si spegne istantaneamente. A prova del fatto che non c'è la batteria. Lo riattacchiamo. Ci chiede il nostro sicurissimo PIN che è 0000 e 0. Tac. E vedete che una volta che abbiamo confermato, trascritto il nostro seed di 24 parole, ciò che ci compare nel menu è soltanto impostazioni e installa nuova app. Io nel frattempo ho aperto Ledger Live, al quale avevo già collegato un ledger, quindi vi faccio vedere un caso in cui, diciamo, posso andarne ad aggiungere un secondo. Vedete che abbiamo, beh, qui abbiamo il bilancio del nostro vecchio wallet e abbiamo l'opzione manager. Il Ledger Manager, vi ricordo, è quella parte di applicazione dedicata proprio alla comunicazione con l'hardware wallet. Quindi è proprio tramite il manager che andremo a installare le app. E vi ricordo che per app si intende un'applicazione che garantisce al nostro ledger, al nostro hardware wallet, di interfacciarsi con una specifica chain. Quindi avremo l'app Bitcoin, l'app Ethereum, che ci permetterà anche di parlare con i token ERC20 e di creare quindi un wallet Ethereum, no? Ma non solo per Ethereum, per ETH, ma anche per i vari token e così via per le altre chain. Ma adesso andiamo alla pratica. Allora, se noi clicchiamo Manager, vedete che lui sta parlando col nostro wallet e ci dice Allow Ledger Manager. Quindi noi possiamo accettarlo oppure no. Con due dita, tac, clicchiamo Accetta e vedete che, eccoci qua, abbiamo capacità 1,28 MB. Ci fa vedere la versione del firmware, quindi possiamo volendo aggiornarlo da qua. 1,28 MB ci permettono di installare una quantità non indifferente di app perché vedete che pesano 70 KB, 60 KB, 40 KB e quindi ce ne stanno, ripeto, parecchie. E questa è una delle differenze, tra l'altro, tra il Nano S Plus e il Nano S. Se vi ricordate, uno dei grossi limiti del Nano S era proprio la memoria. Purtroppo c'era poca memoria. Supponiamo quindi di voler inviare o ricevere Bitcoin. Noi andiamo, vedete, app installate, non c'è nulla. Dal catalogo selezioniamo Bitcoin e clicchiamo Install. Guardate cosa succede. Qua nel nostro wallet ci dice Loading Please Wait perché sta scaricando l'applicazione sul suo chip interno e ecco che ce l'abbiamo. Da adesso, se noi vogliamo, ad esempio, aggiungere un account, il che significa creare un address, ci fa aprire l'app, ok? Quindi apriamola e ci crea immediatamente, guardate qui, un nuovo address. Ci dovrebbe permettere di scegliere tra le varie categorie, Segwit, Native Segwit, oppure quello standard, diciamo. Vediamo, adesso sta ancora sincronizzando. Ok, di default mi sceglie Native Segwit. Io però, vedete, posso andare a scegliere anche Segwit, Legacy o Taproot. Quindi noi scegliamo pure Native Segwit, che è quello che inizia con BC1, per capirci, nonché quello che permette di ottimizzare il peso e quindi il costo di una transazione. Aggiungi account, conferma, tac. Da adesso abbiamo il nostro account Bitcoin sul nostro ledger. Quindi ci avrà generato, di fatto, un address, no? Questo significa. E se noi vogliamo inviare o ricevere, vedete che, non so, supponiamo ricevi. Quindi, vedete, Bitcoin1, Native Segwit, che è il nostro account che abbiamo generato, continua. Lui, vedi, ci dice, apri l'app Bitcoin, di nuovo, tac. E qua ci dovrebbe dare, adesso, l'address su cui ricevere. Lo dovremmo vedere subito. Eccolo qua. Vedete, BC1, eccetera, eccetera. Sullo schermino ce lo ridà per conferma, così noi sappiamo che effettivamente non c'è nessuna manomissione. Confermiamo che sono identici e, una volta fatto, approviamo. Ed ecco fatto che abbiamo il nostro address utilizzabile. Ogni qualvolta riceviamo delle coin, possiamo fare questo double check, che male non fa. Vedete che ora è aperta l'app Bitcoin. Io posso uscire, tac, e ritornare al menu principale. Posso anche andarmi a installare altre applicazioni, come ad esempio Ethereum, per dirne una. Allora, installiamola, tac. E vedete che alcune c'è scritto Ledger Live Supported, altri richiede un wallet di terze parti. Perché talvolta Ledger Live direttamente non è in grado di inviare e ricevere quella specifica coin. E in quel caso bisogna utilizzare, ad esempio, qui il wallet di Cardano, che però è integrabile con Ledger. Quindi non dobbiamo rinunciare, ecco, alla sicurezza di Ledger. Però l'interfaccia grafica sarà differente. Ora abbiamo Bitcoin ed Ethereum, come vedete, e possiamo quindi inviare e ricevere entrambi. Come vedete abbiamo occupato un minimo spazio. Abbiamo ancora un megabyte e 15. Quindi, ripeto, la memoria non sarà un problema. Anche se holdate, 50.000 coin. Anche perché, ripeto, i token RC20 sono su Ethereum, i token della Binance Smart Chain sono sotto Binance Smart Chain, e così via. Non ci vuole un account per ogni token, per ogni, sì, token appunto. Inoltre, se voi disinstallate una di queste app, perché avete la memoria piena e volete installarne un'altra, non è che perdete le coin, attenzione. Nel momento in cui poi le andate a reinstallare, vi ritrovate tutto. È semplicemente una questione di interfaccia, no? Per far parlare questo con la blockchain. Se non c'è l'app, non parlano. Ma le coin sono lì sulla blockchain. Non è che vi vengono portate via. Basta reinstallare l'app e rifar parlare la stessa lingua dal nostro, appunto, ledger alla chain stessa. Nel momento in cui inviamo delle coin, è ancora più importante qua il lato sicurezza, perché adesso è vuoto, quindi non vi posso far vedere tecnicamente, ma il procedimento in sostanza è uguale al Nano S o al Nano X. Cioè voi inviate, scrivete l'ammontare, mandate, cioè incollate l'address di destinazione, e poi nel momento di invio della transazione, vi compare qui sullo schermino di aprire la relativa app, e sull'app, cioè sullo schermino del ledger, vi fa rivedere quanto state inviando e a chi, e poi ve lo fa confermare sempre doppio cliccando i pulsanti. Questa è una firma offline, no? Quindi noi stiamo generando la firma della transazione qui sopra, e poi andiamo a lanciare la transazione on-chain. Quindi le nostre chiavi private e quant'altro, sono qui, non si muovono da qui, non vengono messe online, ed è quella la sicurezza in più che ci dà un hardware wallet. Ne abbiamo parlato bene nel nostro corso base, no? Abbiamo spiegato bene cosa significa utilizzare un hardware wallet lato sicurezza. Bene, detto questo, direi che possiamo fare un ultimo confronto, dove tiriamo un po' le somme, e vediamo le differenze tra il ledger Nano S, Nano S+, e Nano X e quale conviene acquistare. Seguitemi. Tiriamo quindi le somme, andiamo a vedere come si posiziona questo nuovo hardware wallet con i suoi, come dire, fratelli, fratelli minore e maggiore. Il fratello minore è il ledger Nano S, di cui di fatto nasce come miglioramento, questo nasce come una versione potenziata del ledger Nano S. Il Nano X, vi avverto, rimane di una fascia superiore e lo rispecchia anche il prezzo. Il Nano S costa 60 euro, il Nano X 150 e il Nano S Plus si posizionerà sugli 80 euro. Dovrebbe essere 79, se non ho capito male. Almeno al primo lancio il prezzo che è stato annunciato fu quello. Era stato annunciato un primo lotto di 10.000 unità del Genesis Edition, che era un po' l'edizione di lancio. Adesso è sold out e quindi, se volete seguire e aspettare l'uscita di questo nuovo device, dovete iscrivervi alla newsletter e appena arriverà ve lo condivide. Io comunque, io stesso, su Telegram o sugli altri miei canali, se mi seguite ve lo dirò proprio nel momento in cui ritorna in stock. Vi lascio anche un referral link, se lo volete acquistare aiutando anche il mio lavoro, perché una piccola parte del prezzo di acquisto viene girata, ma io vi ringrazio. Purtroppo non ci sono a disposizione degli sconti, quindi è un referral soltanto verso di me. Ve lo dico con tutta onestà, ma se lo utilizzate mi fate davvero piacere. Se ci fossero sconti o promo, sappiate che ve lo dirò in maniera proprio super tempestiva. Torniamo alle caratteristiche. Allora, la differenza grossa sta nel fatto che il Nano X ha la batteria, vedete, ha una batteria di 8 ore, dove era? Qua sotto, eccola. Dura 8 ore, mentre il Nano S e il Nano S Plus, nel momento in cui gli stacchi il cavetto, si spengono, non hanno batteria. L'altra differenza sta nella memoria. Il Nano S, vedete, aveva tre app disponibili, quindi pochi kilobyte di memoria. Il Nano X ci ho guardato ora a 1.8 megabyte, quindi ancora qualcosina di più del Nano S Plus, ma come avete visto, anche il Nano S Plus è sull'1.2, quindi non avrete mai problemi di memoria. Per il resto, non c'è particolare differenza. Lo schermo del Nano X secondo me è ancora leggermente più grande, ma non ve ne accorgerete, cioè non è un device per cui lo schermo è importante, quindi l'unica vera differenza è batteria e connettività Bluetooth. Il Nano X è utilizzabile anche da mobile con l'app Ledger Live, si può fare l'invio triggerando, diciamo, la firma sul wallet, sul Ledger da Bluetooth. Noi firmiamo e la transazione viene confermata poi da mobile e via, mentre sul S Plus, come sull'S, bisogna essere da postazione fissa, quindi collegati via cavo. Questa è la principale differenza. Se non vi importa nulla dell'avere la connettività Bluetooth, nonché della batteria, che poi di per sé non è che serva così tanto, perché quando lo utilizzi devi essere collegato per firmare fisicamente le transazioni, quindi si riduce tutto di fatto alla connettività Bluetooth, questo Nano S Plus per me è un must buy, perché si risparmia più del 30-40%, ovvero da 150€ si passa 80€, anzi è quasi la metà, per una qualità comunque Ledger e con tutto ciò che serve. Quindi ve lo dico con estrema sincerità. Se il vostro scopo è avere il massimo valore dal prezzo, quindi il massimo rapporto qualità-prezzo, questo qui per me è un must buy. Se cercate qualcosa di utilizzabile da mobile, con la connettività Bluetooth, eccetera, allora rimanete pure sul Nano X. Il Nano S credo che verrà completamente cassato dopo questo, perché non c'è più ragione per acquistarlo. Se con 20€ in più si può acquistare l'S Plus, senza problemi di memoria, con comunque tutto il meglio del Nano S e del Nano X messi insieme, direi che il Nano S diventa ufficialmente obsoleto. Quindi è stato bello, buona pensione, grazie per tutto quello che hai fatto per noi. Io con questo vi saluto e vi chiedo la vostra opinione su questo wallet. Cosa ne pensate? Come vi sembra? E lo comprereste? Oppure scegliereste Nano S o Nano X? O magari scegliereste Trezor o una marca competitor? Fatemelo sapere nei commenti. Vi faccio un carissimo saluto e alla prossima.